VAST è un'esperienza universitaria multidimensionale, un po' come questa struttura. Fatto da tanti corsi che affrontano argomenti differenti e è fatto da persone che provengono da percorsi differenti, che hanno punti di vista, idee, che convergono tutti verso l'unico obiettivo. VAST è un'esperienza agenziana nella quale ampliare i propri orizzonti. Spazio e tempo non sono solo degli oggetti di studio, ma sono anche dei mezzi, sono soprattutto dei mezzi. Veramente un viaggio attraverso le discipline, in breve tempo, però in modo sempre puntuale, sempre approfondito. A mio parere è il più meraviglioso mezzo per aprire le menti. Mi ha lasciato, sì, domande, ma molta curiosità. La voglia di continuare a studiare, a indagare tutte le connessioni. Mi sono iscritto non consapevole ancora di quello che sarei andato a fare e ne sono uscito con ancora più dubbi, ancora più voglia di scoprire cose nuove. Qual è uno degli elementi caratterizzanti del viaggio? Sono i compagni di viaggio. Si dà la possibilità di fare un'esperienza di gruppo con una classe che viene portata avanti per tutti e tre i corsi. Mi ha lasciato anche tanti amici, tante persone che sono fantastiche, hanno un modo di vedere la vita completamente diverso dal mio. Una delle cose belle di quando uscivamo poi dall'aula era che andavamo le macchinette e iniziavamo a parlare di quello di cui avevamo spesso in classe e che ce l'ha stato spiegato. E la cosa meravigliosa è che ognuno di noi la vedeva in modo diverso. Lo consiglierei perché anche se rappresenta uno studio in più, come opportunità di spunti di ricerca. Ovviamente quando ci si focalizza su un solo argomento, a volte ci si sensibilizza. Spazio e tempo sono sì oggetti di studio, ma soprattutto mezzi per approcciarsi a diverse discipline e di conseguenza diverse prospettive sul mondo.